Dopo l'uscita del mio ultimo video in cui parlavo della nuova Instax Mini 99, molti di voi mi hanno scritto. Soprattutto dopo aver parlato del prezzo, infatti questa macchina fotografica costa più o meno 199 euro e spiccioli. Però giustamente voi avete detto un altro prodotto di Fujifilm ha lo stesso prezzo, che è la Instax Mini Evo e se avete visto i miei vecchi video sapete che mi ha dato un sacco di gioie e me ne sta ancora dando. E quindi, tornando alla vostra domanda è stata ovviamente. Ciao caro ProvaCosi, ma se io volessi investire 200 euro su una macchina Instax, quale dovrei comprare? Questa oppure questa? Ciao a tutti cari amici via e benvenuti in questo nuovo video, come state? Spero molto bene. Piccola premessa, questo non sarà un video testa testa dettagliato sulle due macchine, anche perché ho fatto dei video dedicati piuttosto dettagliati, quindi se volete tutte le informazioni li trovate lì, vi lascio qua sotto in descrizione. Il problema è la natura di questa domanda, perché ci sta, lo capisco, l'avrei fatta anch'io, ma sono due macchine completamente diverse. Infatti, la Instax Mini Evo è una macchina fotografica ibrida, mentre la Instax Mini 99 è una macchina fotografica completamente analogica. Andiamo a vedere questo che cosa comporta, cercherò di essere il più chiaro possibile in maniera che voi abbiate le idee molto chiare prima di fare un acquisto. Per quanto riguarda la portabilità, che è una delle cose che mi chiedete di più riguarda una macchina fotografica istantanea, direi che più o meno siamo lì, vince di un pelino la Instax Mini Evo perché pesa 60 grammi meno circa, però come dimensioni più o meno siamo lì. Tutte e due hanno la possibilità di essere messe a tracolla, tutte e due hanno una tracolla all'interno delle loro confezioni, insomma in giro ce le portiamo tranquillamente per ore senza alcun problema, se dovessi dare una piccola preferenza alla Mini Evo che è veramente leggerissima, siamo tipo su 290 grammi contro i 356 della Instax Mini 99. Io vi assicuro che sembra fatta ad aria, una portabilità impressionante. Per quanto riguarda le batterie, vantaggi e svantaggi, Instax Mini Evo ha una batteria integrata interna, funziona molto bene, tiene a lungo la carica, non mi ha mai dato problemi. Instax Mini 99 ha comunque una batteria dedicata ma si trova all'interno di uno sportellino posto sul retro. Quindi vantaggio per la Instax Mini 99 è avere la batteria che se si rompe si può cambiare, si apre uno sportellino, si sostituisce, si butta via, se ne inserisce una nuova in tipo 10 secondi. Instax Mini Evo ha una batteria interna inaccessibile, quindi se si rompe boh. Tuttavia lei non ha una presa USB-C o micro USB per poter ricaricare la batteria direttamente dal corpo macchina, mentre la Mini Evo ha la sua presa micro USB quindi la potete ricaricare anche con una power bank mettendola nello zaino. Quindi siamo più o meno lì e l'autonomia è quella, siamo all'incirca sui 100 scatti, ovviamente in base a che cosa fate. Per quanto riguarda gli obiettivi abbiamo per la Mini 99 un 60 mm a diaframma fisso f12.7 con una velocità variabile tra un ottavo di secondo e un quattrocentesimo di secondo, mentre la Mini Evo ha un obiettivo 28 mm apertura di diaframma fissa f2 e una velocità del rotturatore variabile tra un quarto di secondo e un quattro millesimo di secondo. Inoltre il range di fuoco arriva per lei da 30 cm a infinito, mentre per la Mini Evo si arriva da 10 cm a infinito. E la Instax Mini Evo non ha il fuoco elettronico, quindi non dobbiamo farlo noi a stima in base a range che ci ha fornito la macchina come Mini 99 e in più anche il riconoscimento dei volti. Parliamo dei filtri della Instax Mini 99 che secondo me sono una cosa più divertente e bella che ho visto in una macchina fotografica analogica istantanea degli ultimi tempi. Come vi avevo già spiegato, all'interno della camera delle cartucce ci sono quattro led che si azionano in base al comando che noi gli diamo. Abbiamo una ghiera per selezionarli, sono in tutto sei e una volta che ne avremo scelto uno, quando andremo a scattare, questi led subito dopo l'apertura del diaframma si accenderanno per un attimo giusto il tempo per dare appunto un effetto particolare alla nostra foto che uscirà poi dai rulli. La Mini 99 ha anche un po' di impostazioni che possiamo scegliere che aiuteranno la nostra creatività, abbiamo la modalità indoor per scattare al chiuso, abbiamo la modalità sport per fermare un po' i nostri soggetti, abbiamo la doppia esposizione, bulb e anche l'autoscatto. Ora che abbiamo visto che cosa può fare lei andrei un po' a tagliare corto sulla Mini Evo perché la Instax Mini Evo può fare tutto e anche meglio rispetto a quello che può fare la Instax Mini 99, le manca solamente il bulb. Per il resto ha la ghiera anteriore che ci dà 10 filtri effetto e la ghiera posteriore che ci dà 10 filtri pellicola e abbiamo la possibilità di combinarli ed è per questo che ci dà 100 possibilità diverse di scatto che non è poco. Inoltre come abbiamo visto la Mini Evo è ibrida ed è per questo che all'inizio dicevo che un confronto tra le due macchine lascia anche un po' il tempo che trova. In soldoni sulla Instax Mini 99 avremo le cartucce, le pellicole messe qui e qua vedete c'è la parte interna dell'obiettivo quindi le pellicole verranno direttamente impresse. La Instax Mini Evo invece è una macchina ibrida quindi qua non abbiamo niente, non abbiamo l'obiettivo che imprime direttamente la pellicola e abbiamo un vero e proprio sensore, insomma un sensorino o un CMOS da un quinto di pollice. In fase di utilizzo questo ci dà un grande vantaggio perché possiamo fare una fotografia senza stamparla su pellicola quindi avremo un preview sullo schermo posteriore e potremo scegliere se stamparla o cancellarla oppure modificarla. Inoltre avendo un sensore l'immagine viene comunque processata dalla macchina fotografica e questo ci dà la possibilità veramente di scattare in condizioni di luce pessime. Quelli di Fujifilm hanno fatto comunque un lavorone perché anche non usando bulb comunque la mini 99 ci dà la possibilità di scattare con bassa luminosità però anche in questo caso non c'è paragone. Inoltre magari siamo in vacanza e finiamo le pellicole possiamo continuare a scattare perché la Mini Evo ha una memoria dedicata e ha uno slot per la micro sd per poter espandere la memoria. Dentro la mia c'è una micro sd da 128 giga potete capire che praticamente non ha limite di scatto posso continuare a memorizzare per molto molto tempo. Inoltre ha la sua applicazione dedicata Android e iOS perché possiamo usare la Mini Evo come stampante e sempre dalla solita app possiamo comandarla in remoto tramite bluetooth. Dopo tutto quello che vi ho detto penserete che la Instax Mini 99 va presa e lanciata al macero. Tanto per chiarire per me questa è la miglior macchina fotografica istantanea che Fujifilm ha rilasciato da dieci anni a questa parte. È divertentissima, ha un sacco di funzioni, scatta bene con bassa luminosità, ha dei filtri, quest'idea geniale di questi filtri elettronici che però vengono impressi in maniera analogica se vogliamo sulle nostre pellicole e imparare a usarla diventa semplicissimo in pochissimo tempo. Il zucco è che banalmente la scelta non è facile. Cambia proprio l'esperienza che una macchina rispetto all'altra ti restituisce. Non a caso ci sono un sacco di puristi che non vogliono sentir parlare di ibride e altri che sono sostenitori dell'analogico ma più tiepidi che hanno a cuore anche le macchine fotografiche ibride. Personalmente quando voglio rilassarmi, quindi voglio farmi una passeggiata, un giro, gironzolare e andare a fare delle fotografie, preferisco portarmi dietro una macchina fotografica completamente analogica. Quindi un'uscita completamente svincolata al risultato in cui ho tutto il tempo per dare un'occhiata alle inquadrature, fare la mia fotografia senza fretta. Per questo consiglierei la Instax Mini 99 a quelli di voi che hanno un po' questa visione della fotografia. Ed è ottima sia per chi vuole iniziare, perché comunque un po' di occhio sulla luce e sulla compensazione ce lo devi avere, sia per quelle persone che scattano già da un po' di tempo e che vogliono qualcosa in più rispetto al solito punta e scatta. Se avete molte idee e siete molto creativi non vi sentirete soffocare con questa macchina. La macchina fotografica ibrida invece la uso quando so che devo ottenere un certo risultato. Ho un progetto specifico a cui ho già pensato, lo voglio portare sul canale, lo voglio portare sui vari social. A livello pratico la Mini Evo ti fa risparmiare tempo e soldi. Perché se voi volete fare un mosaico o una certa composizione potete guardare le foto che vi sono venute bene, quelle che vi sono venute male e scegliere quale stampare. Inoltre una volta stampate tramite l'applicazione potrete scaricarle già in PNG pronte per essere pubblicate. Mi spiego meglio, se ho un'idea chiara e precisa e so già come ottenerla. Buttare via tot pellicole nel tentativo di farla è sicuramente istruttivo, ma se uno ha delle scadenze o ha dei contenuti ricorrenti non ha senso. Non ce l'ha. Insomma per quelli di voi che hanno bisogno di arrivare nella maniera più veloce possibile a un risultato senza sprechi, avete un'idea chiara, dovete solo metterla in atto. La Instax Mini Evo è la macchina che fa per voi. Però attenzione perché la Mini Evo è un'ottima macchina anche per chi vorrebbe iniziare ma senza troppe pretese, cioè non è che un fan sfegatato nella fotografia, ma vorrebbe avere un prodotto da portarsi in vacanza e un prodotto che gli stampa le foto allo smartphone. Insomma ragazzi, stesso prezzo quale tra queste due macchine dovreste comprare? Io non ve lo posso dire, vi posso solo consigliare di prendervi un paio di giorni per pensarci. In questo tempo vi consiglio di chiedervi perché voglio comprare una macchina fotografica istantanea e quali sono i miei obiettivi in merito. Sembrava un po' serio, quasi professionale. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Mi dispiace se non sto riuscendo a pubblicare quanto vorrei, ma sto montando un sacco di roba. Dai vecchi vlog che non ho ancora preparato. Ho tipo 6-7 pellicole che sono in fase di sviluppo per altrettante macchine fotografiche analogiche da portare sul canale. Sto ragionando anche su un po' di novità da portarvi, quindi abbiate pazienza. Come al solito vi ringrazio del sostegno e noi ci vediamo la settimana prossima per un nuovo video, sempre qui sul ProvaCose. Ciao!